bella a tutti dal vostro criminal 7 gamer oggi siamo qui con PES 2019 con Daniele Nagna bella regà buongiorno bella regà allora niente regà potete dubito ci stanno di nuovo le cop e adesso andiamo a vedere un po' se troviamo qualcuno che è buono prima di tutto spacchettiamo sta merda gratis vediamo se c'era qualcosa ma che è sta pippa sui 35 anni come noterete ragazzi non per i luventini ma c'ho la nuova maglia dell'Ajax natura è bastardo andiamo a spacchettare il Monaco vediamo se ci becca la palla oro che è tanta roba arriva a 96-95 ovviamente Francia palla nera chi è questo? Falcao questa vediamo Falcao! Bono! Bono! Questo lo portiamo a casa volentieri andiamo a vedere le statistiche 91 colpo di testa 95 a prima offensiva 94 finalizzazione colpo di testa finalizzazione acrobatico colpo di tacco di riprima essere da giro specialista di cuore astuzia di spirito combattivo Falcao alla corte di criminal 7 game andiamo a fare la seconda spacchettata la dedichiamo a Tommy 80 questa vai Tommy! vai Tommy! l'altra palla nera ottima e via l'ostora e qui la c'è è la mia e qui la c'è e qui la c'è e qui la c'è e qui la c'è qui la c'è il rega Sif è buono soprattutto io che conto molto sui centrocampisti 96 passaggi alla sua terra 97 passaggi alti no al contrario scusate tanta roba Veronica dai spalla a giro se le suona ti rascende tanta roba adesso il momento più atteso forse da settembre perché c'è il mio amico Grisma ragazzi ve lo faccio vedere Salah Fabregas Grisma no Fabregas Grisma Dre Bruin Culibali Lucas Moura Pevereina e Ultena non ci interessa e ci potrebbe stare Joe Felix 19 anni che a me piace tantissimo sto giocatore spero di trovare lui se ci fiora palla oro andiamo a dedicarla a tutti i miei iscritti a The King Shark al nostro amico Leo Messi a Umberto ma soprattutto a non so cari Fox grande amico e grande sostenitore andiamo a vedere vediamo se lo scuolo crimine non va bene Francia chi c'è in Francia chi c'è in Francia palla oro dai dimmi che è il pischiello facciamo un start chi è questo mamma mia male 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 la prima pescata dai regà c'è uno scuolo crimine scuolo crimine o De Bruin o Griezmann dai dai Griezmann me ne va arrivà eccolo Inghilterra no Austria chi è questo Purchia che cazzo è qua è la palla oro mi sa che è il pischiello dei giovani vediamo un po' quei cazzo si chiamava un po' mi ricordo Hutchinson è lui vediamo 35 ma male male ragazzi ultima pescata dai portami con spagna 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 no portogallo giovan felix dalle giovan felix almeno vede un tempo è lui è lui cazzo è lui ruolo l'asale mai non l'asale no guia sa l'asale no pià altrui Mettiamo ovviamente palla nera chi è questo? Smolov 28 anni la punta tocca broolla questo però eh niente di eccezionale si niente di che va bene va bene da fare la pescata l'ultima perché sinceramente mi interessa questa gente dai dammi la palla oro che dovrebbe essere quello giovane come stai, no portiere questo chi è? no non è un portiere, giocatore, sveremenco, mamma miremenco, mamma mia questo gli davo tutto a Joe Felix stagia ma è 25 anni questo gioco lo spagnolo Alberto Sanchez ragazzi niente ragazzi abbiamo preso bei giocatorini sinceramente mi aspettavo almeno un Griezmann o qualcuno del genere ci ha detto male vediamo un po' se... però abbiamo preso lui ragazzi lui l'onnipotente Joe Felix poi gli diamo subito da mangiare questa robetta che non ci piace converti oh no no sto su casa non boh eh mannaggia dai vado vediamo un po' quanto arriva Joe Felix ragazzi 6.000 cioè 4 giocatori 6.000 male male malissimo no male 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 ragazzi però questo lo fanno crescere questa è una bella bezzia allora niente ragazzi detto questo lasciate tanti like lasciate i commenti sotto vi ricordo che stiamo facendo dei tornei 2 contro 2 e tornei MyClub squadra MyClub inizierà subito dopo vi ricordo da seguire il nostro clan che è arrivato in serie A cazzo in serie A il best youtube clan ragazzi e poi ci ritroviamo tutti al comico il giorno 26 aprile che il vostro criminal sarà là bella a tutti ragazzi da Criminal 7 Gamer e dalla via bella ragazzi ciao ragazzi ciao 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 ciao